benvenuti a tutti in un nuovo video della shamancraft e oggi ero partito un po' col fare un po' di still perché c'ho una buona forse quasi buona non nel tutto buona mettiamola così idea di fare del vi ricordate quello che ho detto nella scorsa puntata mi sembra che avevo detto che volevo fare una cosa che però non sapevo come si chiama però so che in inglese si chiama fluid facility tipo non so adesso non sono riuscito a tradurlo effettivamente non ho neanche cercato e io volevo fare un luogo dove raccoglievo tutti c'è uno storage solo per i liquidi però prima andiamo a controllare la se funziona tutto allora let's turn energy cell tu devi andare la allora poi mi serve il bug pit vediamo se l'ho già fatto bug non l'ho mai fatto quindi cosa ci serve del 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 allora la sand ci serve la sand la sand la sand la sand l'abbiamo tanta mi pare e un bucket 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 ora ci possiamo fuori stendolo bucket allora ci serve però pieno d'acqua Quindi, acqua Le belle fonti d'acqua Allora, tu Proprio tu Abbiamo fatto un peccone Cioè una Una zappa per il farm di là Uno vai qua, grazie Così si fa il Bog Earth Il quale ci servirà per Un po' di cose Ora come ora lo facciamo così, però Mk1 L'antimatter relay non lo voglio Lo devo craftare? Beh, non ce l'avevo una volta Tanto tempo fa, non ce l'avevo Mk1 Eh vabbè, craftiamola Allora Togliamo i tank Perché stavo vedendo un paio di tank Che potevo fare Allora, era project Eh, project D Questo qua Vediamo, richiediamo i materiali Manca una fornace Manca una fornace Vorrei specificare Manca una fornace Non è che manca chissà cosa Manca una fornace Tu per una fornace mi sta facendo storia E tu E chi dimmi tutte le cose E tu E chi dimmi Ok Grazie Fatto Eh, vediamo se lo posso moltiplicare ancora Neh Allora Diamanti montuti Sempre montuti Tenga qua Mangia, mangia Allora Adesso devo fare un energy Con le Vediamo se ce l'ho Energy Condenser Uno Tagli qua E Dammi il bucket Che mi serve Anzi Dammi un altro Così almeno faccio Bucca Faccio una raccolta Di fiori Allora Quaggiù Noi ci piazziamo Il Aia Esattamente quello No Ci piazziamo L'energy Condenser Tu non ti colleghi Assolutamente Disabled Voi state facendo Energy Bravi L'energia dovrebbe andare Qua dentro Esatto E con questa bugert La buttiamo Qua dentro La buttiamo Qua dentro Però se non vi arriva Nulla Allora Fluid Che non ho Perché non ho Allora Mi mancano I fluidi I barrel Ah il board Il board Devo ancora farlo Io Sono babbo Board 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 Questo qua Mi sembra Che basta Anche quello base Che va nel Crappenter Non so Sinceramente Cosa cambia Uno dall'altro Però proviamo Allora Entrata Principale Che è sempre bello Vedere sto portone Che si apre Allora Allora Ci serve Lo squeezer Fermenter Carpenter Lo dati tutti Tranne quello giusto Carpenter Carpenter Ci serve L'acqua Lo colleghiamo qua fuori Giusto per Perché ci piace Allora L'energia Ce l'ha L'acqua Ce l'hai E Allora Tin Abbiamo consumato Un macello Di risorse Infatti Non mi fa chiedere Anche un Tin Allora Poi Redstone Redstone Magari Cerco qua Che ne diciamo Redstone Sei Robbo E ok Andiamo a farlo Croft Andiamo uno Grazie Andiamo a vedere Se funziona Non mi dice nulla Cavolo Vorrei capire Ne un po' di più Di sta cosa Però vabbè Tu vai qua Ma non voglio questo Allora Gli serve Potere Energia Ah i fluidi Però Non so Non so Prendeva anche Il Bogart Perché se non lo prende Abbiamo fatto Finato alla grande Ma siamo che ci potremmo fare La sopra E la farm di terra Una farm di dirt Scusa Eh sì Vabbè Buonanotte La farm di albe Fluid Eccoli qua Che arrivano Ok Dai dimmi che vai Vi ricordo che I cavi del landerio Almeno con le base C'hanno Soffrono Dalla gravità Quindi dovete aspettare Che si riempia il tubo Allora Adesso Gli manca L'energia Che gliela mettiamo Subito qua No 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 fertilizer Insert Lo voglio prendere Tutta l'energia Grazie Mi sono dimenticato Effettivamente Il fertilizer Che non ho dietro Come si faceva Non me lo ricordo Dovrebbe essere No Non mi viene in mente Verti Non ce l'ho Era 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 Come si stimava Per cosa Che considero Sempre inutile Che Non è tanto inutile Apatite Ecco E Send Eh vabbè Sempre L'altro sbagliato Lo cerca Send No 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 ce l'ho Dimmi che funziona come penso Non ho fatto tutto Sto farmi inutilemente Aspettiamo un cavo qua Per non far cadere l'acqua Proviamo No E' va bene Dopo Y'va Dovrebbe uscire no capisco se lo stai usando o meno allora tu devi gestare adesso mi sa che non va e niente dai facciamo un'altra cosa qua a farmi di alberi e questa la si butta giù allora andiamo a dormire e proviamo con il watering can ad annaffiargli tutto quanto voglio vedere se succede qualcosa allora come si fa il watering can la bordo come si fa non mi ricordo ok sta andando non comprendo non 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 capisco non vantini i ritiri allora option video setting animation alone oh si sta andando però effettivamente non è consigliata come cosa da fare questa cosa è un po' lungo come li facciamo allora qui si sta andando tutto quanto ok ho fatto l'umos allora del parli ce l'abbiamo ne abbiamo un paio questo è un po' lungo è un po' lungo è un po' lungo non è male però mi ha consumato metà la batteria in quanti minuti? 20 minuti neanche niente la farm che speravo io non è andata quindi dovrò fare questa qua di legna mi dovrò tenere per ora e dovrò svuotare il primo possibile perché dovrò svuotare i rovester qua le corde però comunque la farm di di carbone lo farò questo sarà una farm di anche ci posso fare questa lina mc vai posso fare una farm di steel li cuocio così che diventa carbone aspettate che devo conferirlo no il pocket coffee non lo voglio grazie posso fare un'armatura è già qualcosa magnetic craft crushing table come sentite item barrel sarebbe l'altro barrel che esiste però è della project red però non si attacca l'endario eh qualsi fare cosa a meta no aspetta no non era qualsiasi quello che mi ha bannato sono sì lo flamavano così a caso vabbè romo adesso team comunque mi ha bannato al meglio presenza non so mi dà la sua no no ora che ci penso ma non ci puoi di fare stavo pensando di farmi la la botania però no non ci trovo devo ancora imparare un mocello di robe e per fare una piantina che ho visto da poco mi ci vorrà un bel po' noi ci trasportiamo dove voglio fare le 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 la distilleria allora waypoint smestamento liquidi forse magari magari mi carichi anche il chunk grazie ok io qua volevo fare qualcosina riguardante il liquidi e sto pensando in superficie magari faccio come si può dire in superficie faccio i macchinari e sotto terra faccio tutti i liquidi possibili immaginabili e voglio connettere questa casa mia con qua tramite non tramite la ferrovia però voglio utilizzare la ferrovia per un erro nel senso che faremo una cosa sempre poi ve lo farò vedere vederite villaggio altra strambo casa casa quindi svuotiamoci l'inventiare e per questa puntata era tutto scusatemi se ho filato col macchinare però pensavo che andasse perché essendo dalla forestry teoricamente potreva andare però non andava non gli andava di andare quindi svuotiamo scopo c'è un po' di cuore prima rompo scambola fare del ferro perché potrei fare lo stil direttamente cioè potrei utilizzare le lecce per fare lo stil però non va ci ho provato ma non va e sto ho appena provato anche a vedere il corpo delle immersive e non va nemmeno quello c'è qualcosa che va no io quasi quasi farei tipo la forte di carbonio infinita momentanea anche se la potrei utilizzare adesso per altri scopi però vabbè allora sì dai certo no No Sbagliato Vabbè Diciamo che per questa puntata era tutto Alla prossima Ciao ciao